Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Thimbleweed Park. Allora, nella scorsa puntata neanche abbiamo combinato molto, però qualcosina abbiamo fatto. Abbiamo capito che la chiave probabilmente è chiamare con la radio della polizia qualcosa che interessi alla tipa, farla andare via. Nel mentre questo agente sarà lì, quindi la chiamata la devo fare con l'altro agente, l'agente prende la mappa, fotocopia la mappa, mette la fotocopia lì e si prende la mappa vera. Ora, il punto è questo. Devo esaminare il cartello. Purtroppo Devo ritrovare il decino? Devo... dove cavolo sarà? Non ne ho idea. Proprio non lo so. Dove se lo può essere perso? Boh, andiamo di qua. Non so dirlo. Apriamo la porta alle berriere dell'Occurro. Tutto non è mai scritto. Ok, grazie, grazie. Raccoglio il mantello maledetto, ma questo... Una forza misteriosa mi impedisce di farlo, d'accordo. Esamina la mummia maledetta, non toccherò niente. Esamina la bambola maledetta, non mi ci voglio avvicinare. Esamina il mantello maledetto, mi sembra un po' pulcioso nel vero senso della parola. Proviamo a parlare Con lei di nuovo. Dal benvenuto alla libreria dell'Occulto di Thimbleweed Park. Madame Morena. Sono l'agente Ray. Se non ha nulla da nascondere, non ha nulla da temere. Per ora. Ok, allora. Come posso aiutarti? Sto ancora cercando i funghi. Non ho paura di sporcarmi le mani. Devo partire per un viaggio visionario per trovare la risposta. Ma non posso raggiungere il vuoto senza un piccolo aiutino. Se mi trovi un fungo agaricus fungus, visione, delectamentum nelle fogne, forse potrei aiutarvi. Sono abbastanza sicura che sia una sostanza illegale. E quindi... Va bene. Niente, arrivederci. Non c'è niente che lei possa fare. E niente, siamo sempre alle solide. Non so proprio dove trovare i 5 cent. Una bottiglia di whisky vuota a Willy. È la mia marca preferita. Peccato sia vuota. Dai, scattola di tetono vuota a Willy. Non gli interessa. Nella bottiglia a Willy. Tenerela per dopo. Che vi posso dare a Willy? Aspetta. Dai, il manifesto del circo a Willy. Come no? Dai, il testo del navigatore a Willy. Dai, il colino di giocare. Dai, il fiore. Usa. Dai. Il cartigiano di giocatore. Va bene, va bene, va bene, va bene. Dove cavolo li trovo, questi 5 cent? Mamma mia. Esamina il taccuino. E siamo sempre alle solite. Ancora trovare i funghi nelle foglie. Dove cavolo li trovo, questi 5 cent? Silenzio. Vabbè, senti, io ci provo lo stesso a fare questa cosa, anche se sono convinto che non serva un cavolo di niente. Purtroppo sto giro. Prendiamo l'altro agente. Esco. Vai qua. Grazie. Allora, adesso. Esaminiamo polistrono. Chiamata, su. L'uomo che fa schiamarsi vicino al circo. L'uomo. Aspetta, 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 ho sbagliato. Allora, attenzione a tutte le unità. L'uomo. Ok. Togliamo la mappa della Contea. Ok, ce l'ho. Usa la mappa della Contea con la Copytron 3000. Usa la... Usa la Copytron 3000. Eh. Type Tron 3000. Usa la macchina a scrivere. E niente, va bene come immaginavo, purtroppo. Mi ci vogliono... I soldi. Una dannazione. Usa la mappa della Contea. Tiro la Copytron 3000. Dove cavolo gli trovo? I 5 cent. La mappa della Cornice. Esamina una mappa. Ok, grazie. Usa il Manifesto del Circo con la Cornice vuota. Non ci entra lì. Eh, niente. Eh, ovviamente. Ok. D'accordo. Dove li trovo? I 5 cent. Non lo so davvero. Dannazione. Ma ci deve essere qualcos'altro che posso fare. Boh, allora per disperazione vado... Vado qui. Non lo so. Non ci sono punti digitali con fingertips. Ah, vabbè. E' questo. Oh. Eh, vabbè. E' fino a qua. Ci siamo. Ho sbloccato un'altra cosa. Ma che non serve a niente, ovviamente. Dove potrò trovare? Qualche cent. Allora. Fermi. Ragioniamo di nuovo. L'unico posto in cui non sono andato ancora, cioè, di nuovo è il cimitero, ma lì c'è la porta chiusa, con l'interruttore dentro, quindi mi serve qualcosa, che non so cosa. Allora, usa una bottiglia con gli andali di plastica, che cavolo ne so, boh. Cinque cent, dove cavolo, dove cavolo li posso trovare? Esamina il movitron 3000. Lui ci sono spento, deve essere rotto. L'instruzione dico di inserire il coupon per il tiro. Va bene. Vediamo la porta. Non c'è altro qui. Allora. Nel vicolo magari c'era sto decino del cavolo. Perché lui se l'era perso, mi ricordo bene. Quindi è da qualche parte. Perché non so dove. Dannazione, dannazione. Dove potrà essere? Come faccio a prendere cinque cent? Esamina il cartello. Pare che ci sono i grandi sconti lì dentro. E ci sono già stato. Oh, 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 fermi. Dove si va qui? Nessuna parte? Niente? Non è il cartello. Ma insomma... Mi sono nel fuoco. Va bene. Va bene. Facciamo che concludo questa puntata in anticipo perché davvero non so dove andare a sbattere la testa. Quindi ci ragiona un pochettino per fatti miei e poi... Continuiamo perché non voglio annoiarvi oltremodo. Avete chiaro tutto. Ho fatto tutto quello che mi si parava davanti agli occhi e non ho idea di come andare avanti. Quindi adesso ci ragionerò un po' per i fatti miei e vedremo in che modo posso risolvere. Va bene? Magari mi viene qualche idea con il passare del tempo che non mi viene adesso. Ok? A posto ragazzi. Magari mi viene qualche idea con il passare del passare del passare del passare.